Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida a breve, io sono Altair e oggi vi mostrerò dove trovare il forziere opulento nei giardini del piacere accanto alla grandiosità caduta. Spero di esservi stato di aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi. Ciao 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 Ciao